E' iniziata la nuova stagione dell'US Avellino 2022-2023. Questa mattina sono iniziate le visite mediche per Pasquale Pane, Gabriele Bernardotto, Giuseppe Guadagni, Raffaele Russo e Richard Marcone. La prima apparizione per i primi tre acquisti della formazione bianco-verde guidata da Mr. Roberto Taurino che nei prossimi giorni incontrerà tutta la rosa a disposizione prima dell'inizio del ritiro. Curiosità ed emozione da parte dei nuovi tesserati dell'US Avellino che arrivano per la prima volta in Irpinia. Per loro le visite mediche prima al centro di analisi SATA, sito nei pressi dello stadio e poi in una struttura ospedaliera cittadina per altri test. Un primo incontro che avviene a pochi giorni dall'apertura ufficiale del calciomercato con l'Avellino che sta cambiando volto con il passare dei giorni con attenzione dedicata al mercato in uscita con le prime notizie che dovrebbero arrivare già questa settimana. Intanto questa mattina la società bianco-verde ha ufficializzato le date del ritiro che si svolgerà a Mercogliano dal 18 luglio al 6 agosto 2022. Un ritiro voluto in terra irpina proprio dalla proprietà che vuol far sentire alla squadra il calore del proprio pubblico in vista della nuova stagione sportiva. Tre sono le amichevoli in programma con le altre gare che verranno integrate in un secondo momento. La prima amichevole si svolgerà il 28 luglio contro una rappresentativa locale, la seconda il 31 luglio contro l'equipo campagna e la terza il 4 agosto contro la Roma primavera. Quest'ultima gara vedrà affrontare i bianco-verdi contro i vice campioni del campionato primavera, usciti sconfitti contro l'Inter per 2-1. Sfumata l'amichevole contro il Monso con il quale era stato trovato l'accordo con il club Lombard ed in particolare con Michele Franco club manager proprio per il 4 agosto. Gara sfumata per via degli impegni nel massimo campionato da parte del club di Silvio Berlusconi che l'8 agosto prenderà parte degli impegni di Coppa Italia.